Sì, è partì, al final di 2000 metri, po' di illuminazione per il Giro del Signore Fama. Sì, è departo. I primi punti a meno... ...quante... ...quante vado a salire? Ora sono... ...quante vado? ...quante vado? ...quante vado? ...181... ...27... ...quante vado a prestare... ...quante vado... ...quante vado... ...quante... E' un'altra parte. Hanno fatto il primo blocco a posto verso eliminazione, eliminazione incerto, eliminazione, eliminazione a concaptura 2.252 1.286, prima munizione, 2.36 Fusi di meno 44, punti, punti, punti 1.132, 2.89 1.132, 4.40 1.132, 4.40 1.132, 4.40 1.132, 1.181, 2.189 1.132, 1.181, 2.181 Elimination, elimination Eliminazione, eliminazione in presso, 91. 91, 91. 91, 91. 91, 91. 91, 90. Punti di meno 40, quant'è? Sono un accaduto in presso, appunti. 1.13, 81. 21 fa eliminazione non eliminazione non c'è eliminazione no 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 Il tuo calentino è un po' più piano l'alba, non c'è problema, e voglio anche mantenere la pericola. Il tuo calentino è un po' più piano l'alba, non c'è problema, e voglio anche mantenere la pericola. Il tuo calentino è un po' più piano l'alba, non c'è problema, e voglio anche mantenere la pericola. Il tuo calentino è un po' più piano l'alba. Il tuo calentino è un po' più piano l'alba. Il tuo calentino è un po' più piano l'alba. Il tuo calentino è un po' più piano l'alba. Il tuo calentino è un po' più piano l'alba. Il tuo calentino è un po' più piano l'alba. Il tuo calentino è un po' più piano l'alba. calentino è un po' più piano l'alba. Il tuo calentino è un po' più piano l'alba. Il tuo calentino è un po' più piano l'alba. la prima eliminazione è da meno 33 ok on va a ripartire a 3 e la prima eliminazione a 1 30 qui ci siamo qui ci siamo la pista a pulire allora al picchio del giudice abito potete riprendere la gara solo una volta passato il traguardo ok adesso lo spiego anche quindi dopo aver fatto il whistle of the referee you could respond to race after the finish ok 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 pretty sure buonissimo 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 ovunissimo buonissimo terzo è difficile buonissimo 22, 22, 22, 22. Segui la servia, segui la servia! Segui la servia, segui la servia! Segui la servia! Segui la servia! I punti di meno 28, punti e punti. Dai, 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 dai! Segui la servia! 8, 3, 8, 181. Provati! Punti di meno 26, 108, eliminata, grazie. Davosilia, non perde la scia! 161, 289. Eliminazione di meno 25, eliminazione. 760, eliminata, punti di meno 24. Per la linea di natale, lunga, vediamo, punti di meno 24. 244, 181. Eccolo! Eccolo! Punti di meno 24! Ok, salta l'eliminazione. Fai eliminazione, fatta l'eliminazione, non eliminare. E punti di meno 22. Passando punti di meno 22. direttamente lindamosia 2-8-6 7-6-1 Venta, venta, venta. Venta, venta, venta. Venta, venta, venta. Venta, venta, venta. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti